Ciao a tutti, il no contact per chiudere davvero con il passato. Allora, intanto ti suggerisco di iscriverti al canale e di seguirmi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. Il no contact, cioè non entrare in contatto con una persona, stabilire un contatto zero, anche da un punto di vista mentale, cioè quando ci viene in mente quella persona a dirottare i pensieri da qualche altra parte, è un modo che serve per chiudere con il passato, cioè per chiudere con questa persona. Ovviamente se noi abbiamo acquisito una consapevolezza molto grande, una forza molto grande, cioè, voglio dire, più andiamo verso il cammino dell'illuminazione, più non abbiamo bisogno di fare no contact, perché capiamo che quando una cosa non funziona, quando c'è un... o una persona non ti vuole, perché possono essere mille i motivi, no? Non è che possiamo pretendere di piacere a tutti. E quindi noi dobbiamo tenere presente questa situazione, che quando entriamo in una fase di questo genere, che ci rendiamo conto che c'è qualcosa che non va, o veniamo rifiutati, se abbiamo già raggiunto un elevato livello di sviluppo, accettiamo tranquillamente la cosa e ci rivolgiamo ad alto, che poi sarebbe anche la cosa più naturale, di fatto, no? Senza accanirci. Poi è ovvio che se una persona mi rifiuta, e non sono io che ti inseguo, se vuoi, eventualmente poi torni e vediamo come staranno le cose, però questo è un dato di fatto, perché nel momento in cui tu insegui capita una cosa fondamentale, che andiamo a, come dire, oltraggiare la nostra dignità. E se viene oltraggiata la dignità, viene oltraggiata anche l'autostima. L'autostima in noi stessi inizia rapidamente a scendere. E questo ovviamente porta a delle situazioni molto negative. Entriamo in uno stato veramente di negatività. Quindi, se ci sentiamo ancora deboli, diciamo così, del riuscire rapidamente, magari a dirottare le nostre energie da altre parti, dobbiamo aiutarci con il contatto zero, con il no contact. Perché questo è un metodo che ti aiuta a chiudere con il passato, a chiudere con questa storia, a chiudere con questa relazione. E nel momento in cui tu chiudi con quella relazione, automaticamente l'universo ti manderà altre cose, perché le emozioni arrivano. Se tu da lì non le vai a prendere e non ti nutri di sofferenza, nutrirsi di sofferenza vuol dire stare a pensare, stare a fare, le mando un messaggio, non le mando un messaggio, faccio questo, faccio quest'altro. Cioè, dedichi energie mentali a quella cosa lì. Dopo un po' quelle energie mentali diventano il tuo nutrimento. E allora, se invece tu le dedichi, inizia a dedicarle ad altro, ad altre situazioni, ad altre persone, ad altre opportunità. Le opportunità arriveranno, si manifesteranno, entreranno prepotenti nella tua vita. E tu potrai in questo momento, in quel momento, coglierle. Però devi passare da questa fase di no contact, di contatto zero, restare senza contattare, anche mentalmente. Quindi il no contact ha anche questa funzione, quella di, diciamo, chiudere con il passato, chiudere definitivamente una story, chiuderla definitivamente, questo è molto importante. Quindi tieni presente che lo sforzo iniziale verrà ricompensato, perché si apriranno davvero nuove possibilità, si apriranno infinite possibilità. E quindi perché stare a, come dire, a soffrire per una di queste che non è neanche quella giusta? Quindi ritrova la forza in te stessa e in te stesso e vedrai che le cose andranno per il verso giusto. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco ed iscriviti al canale. Ciao!